Buongiorno ed eccoci pronti anche a leggere i titoli e i commenti sulla settimana sportiva, sul fine settimana sportiva, in particolare sull'Udinese che ieri ha vissato la bella prestazione di sette giorni prima contro la Juventus, avversario decisamente più ostico del Pescara, ma proprio perché il Pescara rappresentava una gara contro una formazione che è avviata verso la retrocessione in Serie B, poteva nascondere delle insidere dal punto di vista motivazionale, così non è stato, l'Udinese ha vinto 3-1 ed ha portato a casa tre punti molto importanti dal punto di vista della classifica perché in pratica chiudono il discorso relativo alla permanenza in Serie A, considerando anche la sconfitta del Palermo in casa contro la Roma, adesso sono ben 18 i punti di distacco dalla terza ultima, quindi salvezza che si può considerare cosa fatta anche se non c'è ancora la matematica a dirlo, si può programmare questa parte di stagione che da oggi ci porterà fino al mese di maggio con la possibilità di vedere all'opera anche dei giovani sui quali l'Udinese potrà poi contare per il futuro, a partire magari già dal prossimo campionato, la prossima partita contro il Palermo, quindi un'altra delle squadre che mestamente si sta avviando alla retrocessione in Serie B, sarà un'occasione per iniziare forse a vedere già qualcuno delle giovani speranze in campo dal primo minuto, ma questo lo deciderà ovviamente del Neri in base anche a quello che vedrà in settimana e ci sarà probabilmente anche il ritorno di Simone Scuffet in Serie A dal primo minuto in casa davanti al pubblico friulano, visto che Carnedis ieri ha subito la lussazione del quinto dito della mano destra e dovrà restare a riposo sicuramente questa settimana e quindi sicuramente non potrà essere tra i convocati, tra i disponibili per la gara contro i siciliani, ma andiamo sui giornali per leggere la prima di sport del messaggero Veneto e dare un'occhiata anche agli altri temi della giornata e quindi della nostra rassegna. Abbiamo detto tutto il bene possibile dell'Udinese e purtroppo siamo costretti a dire tutto il male possibile della GSA. Udine che si sta complicando la vita in questa parte di stagione rischia seriamente di essere coinvolta nella lotta per evitare i play-out. La sconfitta di Imola da questo punto di vista è un macigno, considerando poi che arriveranno a gare molto difficili a partire da quella di domenica prossima contro l'Alma Trieste. Un derby che vede una differenza di classifica tra le due squadre importante con l'Alma che è in lotta per la promozione in Serie A1 e la GSA che è chiamata invece a riprendersi per evitare di essere coinvolta negli spareggi retrocessione. Quindi la prima pagina del messaggero sport del lunedì titolo è in questo modo con bravissimi qui a sinistra c'è la foto di Jakub Jankto, quarto gol in Serie A per lui con il centro di ieri, uomo assist, migliore in campo, il giocatore cieco. Da quest'altra parte invece imbarcata c'è la foto di Weidman, il nuovo arrivato che non ha giocato nemmeno male, un po' impreciso, abbastanza impreciso al tiro che dovrebbe essere invece la sua caratteristica principale nel primo quarto e questo ha contribuito a far scappare subito Imola. Bravo quando poi Udine è rientrata fino a meno tre, dopodiché di nuovo tutta la squadra è crollata e gli emiliani hanno vinto la loro partita. Qui lo vediamo in azione, sicuramente però era alla prima in maglia bianconera, avrà modo di amalgamare ancora di più il suo gioco, la sua condizione nel resto della squadra per essere più decisivo a partire, si spera, già dalla gara contro Trieste. Andiamo un attimo in alto per vedere invece cosa è successo nelle altre categorie del calcio e negli altri sport. In eccellenza era attesissimo il match, lo scontro diretto tra Cialinz Buzane e Gemonese ha vinto la capolista che quindi allunga il passo in classifica, ne parleremo dopo con il collegamento da Cussignacco con Gigi Lanzilli, intervistato da Davide Zanirato e gli altri ospiti che arriveranno in edicola a parlare di calcio dilettantistico e altri sport. Per quanto riguarda il volley, in Serie B1 ieri era giornata di derby, l'Atomat cade sotto i colpi della CDA, troppa CDA, il derby va al Talmassons, da quest'altra parte invece nel ciclismo lo show di Sagancio da campione Contador spaventa Enau nella Tireno Adriatico. Questa è la situazione per quanto riguarda gli altri sport. Torniamo in basso per parlare invece del Pordenone. Ieri sera abbiamo visto in differita sul nostro canale, vi ricordo ogni domenica alle 22.30 il match del Pordenone in differita sulla nostra emittente. La vittoria ieri va del quarto posto, hanno rallentato tutte davanti, il Pordenone quindi capitalizza al massimo questa giornata vincendo contro il Sud Tirol. Arma sbaglia un rigore ma ci pensa Padovan a portare in vantaggio e a permettere quindi alla banda Ritedino di portare a casa i tre punti con una prestazione tutto sommato buona. La squadra ha dominato all'inizio e alla fine pur riuscendo a segnare soltanto un gol ma quel che importa è che siano arrivati i tre punti. Avremo modo dopo di vedere gli highlights, il gol della partita, le azioni più importanti del Pordenone ed anche ascoltare il parere di Tedino in conferenza stampa insieme a Padovan e Cattaneo, due dei protagonisti del match. Risultati della Serie A manca all'appello e si giocherà oggi Lazio-Torino alle 20.45. Per il resto tra venerdì e ieri questi risultati. Il Chievo ha superato l'Empoli per 4-0, Fiorentina-Cagliari 1-0, il derby di Genova è andato alla Sampo 1-0 con gol della nostra vecchia conoscenza Luis Muriel. Inter-Atalanta è finita 7-1, Juventus-Milan 2-1, Napoli-Crotone 3-0, a Palermo da Roma ha vinto con lo stesso punteggio del Napoli 3-0, 3-1 dell'Udinese a Pescara e infine il Bologna che ha fatto suo il derby emiliano contro il Sassuolo, 1-0, derby anche in famiglia in casa di Francesco con il figlio che ha battuto il papà. In classifica la Juventus è avanti con 70 punti, più 8 sulla Roma, quindi un solco che sembra impossibile da colmare testa a testa tra Roma e Napoli per il secondo posto con l'Inter che è lì eventualmente pronta ad approfittarne anche se un po' in ritardo a quota 54. Una classifica molto corta che vede in corsa per l'Europa sia la Lazio che l'Atalanta, lo stesso Milan a quota 50, più dietro la Fiorentina che dovrà accontentarsi probabilmente di chiudere il campionato in una posizione di medio-alta classifica a ridosso della zona Europa, poi la Sampo 41, il Torino 39, finisce qui la parte sinistra della classifica con l'Udinese che a quota 33 si affaccia al dodicesimo posto lì con la possibilità di andare a lottare con il Chievo ed eventualmente anche con il Toro nelle prossime partite, si spera, ci sarà da giocare uno scontro diretto in tal senso contro il Torino con la possibilità di provare a chiudere la stagione nella parte sinistra della classifica, il che significa tanto dal punto di vista psicologico, visti i risultati delle ultime stagioni, ma anche dal punto di vista strettamente economico bisogna far notare che quando si arriva dal decimo posto in su ci sono anche degli introiti maggiori che arrivano dai diritti televisivi, quindi maggiore possibilità eventualmente di investire su calciatori come l'Udinese peraltro ha fatto nell'ultimo mercato acquistando a titolo definitivo giocatori come Depol, come Fofanà, quindi facendo degli investimenti che potrebbero essere aiutati e ancora di più spinti grazie alla posizione numero 10 almeno in campionato. Torniamo, abbandoniamo un attimo il messaggero ma ci ritorniamo perché avevo preso l'edizione di Pordenone, andiamo adesso a sviluppare il discorso sull'Udinese che come dicevo ieri ha vinto 3 a 1, si è rivisto anche Scuffet in campo, una presenza quella del portiere friulano che sarebbe costretto ad entrare a freddo e forse per questo è stato un po' indeciso sul gol di Montari, ma un gol ininfluente causato da una disattenzione di Cums davanti alla difesa. In ogni caso vediamo cosa scrive il messaggero. L'Udinese rivince dopo 43 giorni, una vittoria tutt'altro che scontata, quella che è arrivata all'Adriatico di Pescara. Qui vediamo Theroux Badu con Theroux che sta festeggiando il gol, appena spinto in porta il gol del 3 a 0, l'Udinese approfitta di un Pescara imbarazzante, infilato dalle reti di Zapata, Iancto e Theroux. Si è visto ieri davvero una grande differenza dal punto di vista tecnico-tattico tra l'Udinese e il Pescara. Qui vediamo il gruppo dei bianconeri che festeggiano dopo il gol ancora di Theroux, si abbracciano tutti. Protagonista anche Jakub Iancto con il suo numero 14, uomo assist, ieri ha permesso alla testa di Zapata di aprire le marcature e poi ha regalato a Theroux l'assist per il gol del 3 a 0. Nel frattempo in mezzo ci ha messo lo Zampino lui stesso, raddoppiando il, quindi segnando il suo quarto gol stagionale. Per Canesis, come dicevamo prima, l'Ussazione al Mignolo destro e gli esami stabiliranno i tempi di recupero, ma come dicevamo sicuramente non ce la farà per la partita di domenica prossima contro il Palermo. La domenica perfetta per 200 cuori bianconeri, passiamo qui a destra senza spostarci dal fondo pagina con lo spazio dedicato ai tifosi bianconeri e vedete la foto di Alessandro Scarbolo, presidente del club Zico di Orsaria con il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi a cui consegna una maglia del Flamengo di Zico insieme a tanti altri cimeli che sono stati consegnati, ma anche a tante cose concrete come un defibrillatore e delle casacche da gioco, delle mute da gioco per permettere ai bambini di riprendere l'attività sportiva dopo quello che hanno passato a cavallo tra l'estate e l'autunno con il terremoto che ha devastato il centro Italia. Qui abbiamo le dichiarazioni di alcuni protagonisti, quella di Terro e quella di Youngton, ma iniziamo con le interviste in zona mix dal mister Gigi Delneri, un mister soddisfatto per il risultato, per la prestazione e c'è anche da dire che può essere soddisfatto perché due dei tre gol sono nati da schemi, da situazioni studiate in allenamento con i giochi che sono stati proposti su palle inattive che hanno portato a due gol. Vediamo. Sì, i miei collaboratori lavorano bene, lavorano a merito, a De Poli no, a De Poli, ti do io, De Bravo, alla fine di un bel bravo quella palla che ti ha dato lì da Nilo, a parte dei scherzi, no, è stato di bravo i miei collaboratori perché abbiamo deciso di fare questo tipo e loro sono applicati bene, i ragazzi hanno saputo bene, poi deve venire tutto perfetto, oggi è venuto abbastanza bene, mi ha sfruttato quelle che erano le nostre idee, sfruttando quelle che erano le situazioni di pari inattiva in cui il Pescara si approcciava. Ovviamente poi c'è stata una partita in cui l'Udinese ha tenuto botte ai primi minuti, il loro entusiasmo è stato un inizio comunque non semplice, il campo era anche caldo, poi l'ha gestita bene una volta passata in vantaggio. No, è complicata perché fincere, tutti bisogna andare a vincere, io riesco a malapena a capire se una squadra difficilmente va in campo per perdere, questo mi sembra un paradosso, quindi in campo però vincere è difficile perché il Pescara si giocava, poi è rimasto invariato il tetto, poi si giocava a gran parte, oggi se il Pescara vince va a 4 punti, va a a 7 punti dall'Empoli, sconti diretti eccetera, sai rientra, quindi non era facile venire qua e fare partita, fare tre gol per anche loro e poi quello che abbiamo fatto loro ne abbiamo concesso noi, non abbiamo costretto niente, ne abbiamo regalato i palloni, quindi un po' di tensione, sono detto che Serini ha fatto 65 minuti bene, ha fatto gol importante e comunque una spina nel fianco di per gli avversari perché comunque è un giocatore che ha delle qualità importanti, colui ha fatto molto bene anche Iancco che ha fatto il terzo gol, ha sperato un quarto, uno contro uno, quando è presa parte, continua a visione che quando due punti fanno gol tu vinci le partite. Assolutamente sì, l'ultima domanda è proprio su Iancco perché paradossalmente è uscito Fofana a 95 che era un po' l'elemento più in vista del centrocampo, le chiavi per così dire se le ha prese Iancco a 96 e ha fatto subito una grande prestazione, come ha già fatto in precedenza. Vabbè no, io spero rimanesse anche il Fofana, per dire la verità, personalmente, perché stava facendo molto bene, mi dispiace che sia fatto male perché domenica con la Juve è stata una delle partite tatticamente dove lui ha giocato meglio, quindi stava imparando a stare in campo, per lui è importante, da delle situazioni tecniche o di fisicità anche per stare in campo, mi dispiace però i ragazzi adesso danno tutto quello che possono, è una partita complicata che noi abbiamo vinto con merito e poi alla fine. Partita vinta con merito sicuramente, adesso andiamo ad ascoltare se ci sono problemi alla viabilità cittadina con il vice ispettore Cristiano Beretta dalla centrale operativa della Polizia Municipale di Udine, buongiorno. Buongiorno, oggi problemi al momento non ci sono però presumibilmente ce ne sarà qualcuno più tardi perché dalle 8.30 abbiamo l'inizio dei lavori di asfaltatura sul via elettricesimo, quindi soprattutto per la direzione dalla città verso la periferia nessun problema perché è percorribile, invece per la direzione da nord entrando in città ci sarà una deviazione all'altezza del semaforo di via Montello, diciamo di Fiascaris, il traffico verrà deviato su via Maestri del Lavoro, quindi sì lì qualche disagio sicuramente ce l'avremo, a partire però dalle 8.30, contemporaneamente si approfitterà di questa chiusura per anche proseguire con i lavori della posa della fibra ottica, poi volevo ricordare fino a domani mattina alle ore 10 c'è la chiusura di via Paolo Sarpi, quindi qui andiamo nel centro, proprio nel centro storico per lavori dell'acquedotto fino a domani mattina alle 10 e poi un'altra cosa, oggi un po' abbiamo anche su Viale Palmanova in uscita dalla città nel primo tratto dopo il cavalcavia per lavori del verde, quindi di sistemazione di taglio alberi, una piccola deviazione anche lì, in uscita dalla città. Speriamo, noi saremo sul posto, naturalmente in Vialettricesimo speriamo che vada tutto bene, se c'è la possibilità di usare percorsi alternativi, ecco meglio perché qualche disagio probabilmente l'avremo, fino a mercoledì dovrebbe essere questo. Grazie, grazie al Vice Ispettore Cristiano Beretta per le informazioni molto utili, ci risentiamo ovviamente domani mattina, grazie. Buongiorno, grazie. Ringraziamo la Polizia Municipale, come dicevo un'informazione molto utile, quella sulle difficoltà a causa di lavori in corso su alcune strade cittadine che portano verso la periferia. Allora andiamo avanti con il messaggero e con la partita dell'Udinese a Pescara, abbiamo ascoltato le parole di Gigi Del Neri, adesso diamo un'occhiata a cosa ha detto Zeman, Zeman parla di due regali sulle palle da fermo, la gara si è decisa lì, ma più di due regali, questa volta possiamo dire che l'Udinese ha eseguito alla perfezione lo schema, gli schemi studiati in allenamento e andiamo a vedere poi le pagelle della partita con Samir che il messaggero celebra dicendo sei da incorniciare e Zapata concede il bis, sei e mezzo per Carnesis, riceve una sola chiamata nel primo tempo ma si fa trovare pronto, Widmer cinque e mezzo, un po' distratto scrive il messaggero in fase difensiva, sei e mezzo per Danilo, il capitano ben oltre la sufficienza insieme ad Angella che ha giocato molto bene in questo suo terzo impegno dal primo minuto coinciso con la terza vittoria, tre su tre ne ha fatte Angella giocando dal primo minuto, sette per Samir, migliore del pacchetto arretrato, sei per Emanuel Bado, cinque e mezzo per Alfredson che però dobbiamo dire dopo un primo tempo così così, nel secondo tempo ha giocato molto bene, Janto sette e mezzo ed è sicuramente il migliore in campo, tutti concordi su questo, De Paul sufficienza per Zapata sei e mezzo, da quest'altra parte andiamo a vedere prima i titolari poi quelli che sono subentrati, Terò con il gol si è guadagnato la sufficienza, una partita che lo ha visto comunque su buoni livelli come diceva Del Neri per 75 minuti, poi Coombs cinque, Gabriel Silva cinque e mezzo, cinque e mezzo anche per scuffetta, appena subentrato prende un gol che si poteva evitare e vabbè come abbiamo detto, è entrato probabilmente a freddo, non si aspettava nemmeno il tiro di Montari dopo l'errore, dopo la distrazione di Coombs che aveva liberato proprio il ganese. Alla conclusione abbiamo il primo collegamento di oggi con l'edicola di Cussignacco dove c'è Gigi Lanzilli insieme a David Zanirato e l'immancabile uovo di Pasqua dietro, mi abbiamo promesso la settimana scorsa che la premiazione la faremo in edicola e scarteremo insieme al vincitore quando sarà il momento, il max uovo di Pasqua della lotteria che ha lanciato Gigi a scopo come sempre di solidarietà. A te la parola David. Grazie Francesco, buongiorno, buongiorno Friuli dall'edicola di Cussignacco, infatti il nostro Francesco ribadiva per l'uovo, saremo pronti per scartarlo in diretta dopo la premiazione. Con Gigi Lanzilli torniamo subito sulla prestazione dell'Udinese di ieri, tre punti importantissimi, una buona partita, una prima fase, il primo tempo un po' macchinosa dei bianconeri, poi veramente si sono viste belle cose. Sicuramente forse è stato anche un po' il clima, non hanno giocato col ritmo molto elevato, è stata una partita a ritmi abbastanza bassi. Comunque secondo me l'Udinese l'ha portata a casa in maniera molto tranquilla, ha fatto un bel gol Zapata, c'è stata un'ottima crescita di Janto che sta dando continuità alle prestazioni, ha fatto un bellissimo gol, ha fatto l'assist per il gol di Zapata. Comunque diciamo che ieri sono stati tre punti tranquilli, abbiamo fatto una buona vittoria anche senza aver giocato in maniera esemplare. Vedremo poi per le prossime partite anche la speranza di vedere i giovani. Si spera che adesso la classifica è tranquilla, comunque l'Udinese è difficile che possa andare in UEFA, che retrocede impossibile. Si spera che si veda qualche giocatore del vivaio, così magari ci sono giocatori interessanti tipo Evandro, magari Scuffette farà qualche partita. Giusto per vedere cosa ci aspetta in futuro. Grazie, grazie Gigi. Lo lasciamo ai clienti, con lui tra poco ritorneremo per parlare di calcio dilettanti e non solo. A te Francesco. Sì, c'era una cliente minacciosa, la voleva pagare. Io poteva approfittarne per scappare via, ma l'avremmo beccata con le nostre telecamere. Allora, eccoci qui di nuovo in studio. Gigi ha incassato il quanto dovuto per il giornale. Andiamo a leggere questo tweet di Faraoni, come ci riporta il messaggero, l'immagine pubblicata sui social dello sfortunato. Marco Davide Faraoni che si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico, un'artroscopia esplorativa durante la quale il professor Mariani, come abbiamo segnalato sul sito ufficiale l'altro giorno, ha dovuto rimuovere un frammento di cartilagine intraarticolare. I tempi di recupero sono ancora da definire. Certo è che per Marco Davide Faraoni un altro intervento proprio non ci voleva, ma lui ha risposto con grande ottimismo dicendo si riparte, grazie a tutti. E quindi è il modo migliore sicuramente per ripartire. Andiamo ad ascoltare adesso un altro dei protagonisti di ieri. Abbiamo sentito il mister, protagonista dalla panchina, ma in campo sicuramente il protagonista assoluto è stato Jakub Jankto con un gol e due assist, quattro gol stagionali per lui. Sta giocando davvero molto bene, si sta già segnalando all'attenzione generale. Sentiamolo con Stefano Giovanpietro. Per noi è importante vincere perché dopo tante sconfitte, anche dopo pari contro le vincere, sicuramente vogliamo vincere. Eravamo consapevoli che Pescarano è una squadra scarsa, anzi io so, ho giocato addirittura l'anno scorso contro di loro, so che loro hanno una grande qualità davanti, soprattutto davanti, indietro concedono molto. Hanno fatto anche oggi, abbiamo fatto grandi tre gol, penso che tre azioni buone. Anche tutti diciamo che i primi due punitive abbiamo allenato molto e ci siamo riusciti oggi, quindi siamo veramente contenti. È stata una bellissima partita da parte tua, sei andato anche vicino alla doppietta, purtroppo uno stop sbagliato, ma capita anche questo. Sì, purtroppo ho sbagliato, ma ci sta perché abbiamo tre punti e siamo soddisfatti lo stesso. È una soddisfazione maggiore anche fare gol su schemi provati in allenamento, due su tre erano schemi davvero ben collaudati, tra cui anche il tuo gol. Sì, sì, ripeto che siamo contenti per questo perché abbiamo allenato molto, soprattutto questa settimana, e ci siamo riusciti benissimo. Come si affronta il Palermo? Dobbiamo andare con lo stesso spirito come abbiamo messo oggi, penso che da primo minuto volevamo vincere e si vedeva in campo e dobbiamo andare così avanti a tutte le gare. Sempre con la stessa testa, ovviamente. Ancora complimenti per te Cuba, da casa come ci dicono, arrivano tanti messaggi. Ti fa piacere comunque essere diventato già un beniamino di questi tifosi? Il beniamino non lo so, ma certo che mi fa piacere. Bene, fa piacere senz'altro vedere un ragazzo cresciuto al Bruseschi con le giovanili, poi l'esperienza ad Ascoli subito positiva, si è capito immediatamente che avrebbe avuto una chance importante anche in Serie A al ritorno ad Ascoli, così è stato e adesso si è guadagnato sicuramente il posto in squadra e come dicevamo, quattro gol, assist, prestazioni convincenti per lui. Gli occhi di molte squadre importanti si stanno già muovendo, però Jankt è un giocatore dell'Udinese. L'Udinese farà di tutto per farlo maturare nella migliore condizione possibile e tenerlo probabilmente ancora qui per un po' di tempo. Ogni sport, l'inserto di Pordenone, dell'edizione di Pordenone del Gazzettino per parlare di Udinese, Udinese che affonda Zeman, Tris pesante al Pescara, Zapata Jankt è ritrovato Terò, firmano un successo esterno atteso a lungo. Abbiamo però la possibilità anche di accennare qualcosa sul Pordenone, la risalita nero-verde con arma che sbaglia un rigore, ma Padovan segna il suo primo gol con i Ramarri. Andiamo a vedere all'interno del Gazzettino per continuare con l'analisi sull'Udinese. Del neri lezione a Zeman, una vittoria di squadra. Il tecnico va elogiato in blocco alla prova del collettivo. Abbiamo provato soluzioni nuove sulle palle attive ed hanno sicuramente funzionato. Aggiungiamo noi. Scappata la pagina, eccola che ritorna. Poi sulle pagelle, Jankt è una furia scatenata e quindi conferma anche qui della bella prestazione di Jankt anche sul Gazzettino. 7,5 il voto al centrocampista Ceco, per il resto non si discostano molto dagli altri. Poi Terò, i gol sono belli quando fanno vincere. Andiamocelo a sentire Siril Terò dopo la partita. Come sempre al microfono del nostro inviato Stefano Giovampietro allo Stadio Adriatico. Questo non lo so. È chiaro che dei gol sono belli quando fanno, come dire, che vanno su una vittoria. Era per noi una partita fondamentale. Non tanto per i punti o per la salvezza o per tutto quello che si dice, però per noi perché uscivamo da una bella partita contro la Juve che abbiamo fatto 1-1, però era un po' di tempo che non vincevamo. Secondo me avevamo meritato la vittoria. Un peccato secondo me di a fine partita aver sofferto perché non aveva senso. Con 3-0 dobbiamo giocare, provare a creare occasione, a fare male all'avversario. abbiamo sofferto un po', però era importante vincere e sono contento di tornare un po' a gol perché dal Milan non avevo segnato e soprattutto inizia a giocare senza dolore e per me molto bene. Anche perché tra il dover vincere sulla carta e poi farlo effettivamente non è mai comunque così semplice, anche contro squadre che sono ultime in classifica. Sì, sì, ma noi avevamo ricordo dell'andata. L'andata abbiamo vinto con il Pescara, però era veramente una partita difficile. Mi sa che avevamo anche vinto 3-1. No, era una partita difficile. Loro hanno qualità, hanno dei buoni giocatori, hanno una maniera di giocare palla a terra, sì, una bella maniera di giocare e per noi era importante fare bene. Il mister sicuramente sarà contento perché le due prime gole sono cose che abbiamo lavorato in allenamento, quindi è tutto merito suo. Noi siamo contenti perché è importante fare risultati, vedere ai nostri tifosi che non abbiamo mollato niente e che abbiamo veramente la voglia di finire bene questo campionato. L'ultima domanda, non sarà stato facile stare fuori contro la Juventus, però con il senno di poi il riposo ti ha fatto bene? Sì, sì, no, ma era veramente una questione medica, medicale. Era un po' di tempo che pensavamo a questa cosa, a stare un po' a riposo per mettere proprio a posto un piccolo problema che ho ottenuto da tempo. No, sono contento perché tutta la settimana mi sono allonato bene, non ho avuto dei fastidi e mi sembra sulla strada giusta, quindi sono contento. E allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torneremo in diretta con le informazioni sul meteo, le previsioni del tempo, oggi è una splendida giornata, ma vedremo anche cosa succederà domani e la tendenza per la settimana insieme ai previsori dell'Osmer Arpa, poi ancora Sport con Pordenone, le immagini e le interviste post partita di Pordenone Sud-Tirol, la palla canestro con la GSA a Dimola, anche in questo caso immagini e interviste e ovviamente ancora collegamenti da Cussignacco per parlare di calcio dilettanti con tutto ciò che è successo ieri, la Serie D è rimasta ferma, ma gli altri campionati hanno giocato e ci sono risultati importanti da commentare. Tutto questo fra poco.